Sono Stefano e sono ricercatore WM. Amo unire lo studio di prodotti che possono impreziosire e proteggere il legno all'impegno per l'ambiente. Considerando che il legno è il materiale naturale per eccellenza, ho pensato di mettere a punto un nuovo rivestimento più green possibile. Sono dunque orgoglioso di presentarvi la nuova Arrowline, una gamma di prodotti bio che permette di ottenere un film di vernice che contiene fino al 50% di materie prime di origine vegetale rinnovabile, non in competizione con quelle destinate all'uso alimentare. Arrow, il nome di questa linea innovativa deriva da una splendida isola svedese incontaminata e vedendone le foto ho pensato che nessun altro nome potesse essere più appropriato.